La vita del corpo 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 Quando tiene clarità in lo che hace e quando mi vuole trattare la clarità all'altro Perché credete io non fui a facilitar e chiedere all'altro se c'è un desiderio no? Personalmente, come professionale non è sempre male di aver passato con 12 processi di crescimiento io non posso guardare che i miei amici, non sono i miei amici, non sono i miei amici ma sono i miei amici ma sono i miei amici ma sono i miei amici io credo che il ambito che abbiamo concluito che abbiamo concluito che è lavorare un gruppo con i miei amici con i miei amici i miei amici ma sono i miei amici ma sono i miei amici io non sono i miei amici che ho tenuto ma sono i miei amici Il primo anno dell'Istituto di Formazione Docente, che leggerà un mensaggio di despedita a tutti i profondi professori di insegnanza primaria. Ho ho avuto anche il privilegio di expresare il sentimento per parte dei nostri alunos a voi, perché è questo. Grazie a tutti, voglio share con voi questo momento di alegria, di dolore, di satisfacione al che ha arrivato dopo di tanti giorni di studi, di lavoro, di esforzo. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie.